Grazie a tutti. Lo presento brevemente, Armando Barney è stato professore di chimica organica nella nostra facoltà di scienze, è stato ovviamente nominato professore emerito nel 2010, ha svolto attività didattica, ricerca scientifica nel campo della chimica organica, in particolare dei coloranti organici, nelle loro implicazioni tradizionali, sofisticate e così via. Ha fatto un'ottima carriera sia nel campo didattico che nel campo scientifico, è stato presidente del consiglio di corso di laurea in chimica industriale, direttore del dipartimento di chimica generale organica applicata, presidente dell'associazione italiana di chimica tessi e coloristica e ha avuto il premio SESA dell'associazione che ha sede a Milano e che era stata fondata a Torino nel 1911 e che non c'è più, in concomitanza con il cinquantenario dell'Unità d'Italia, è socio di questa accademia ed è stato anche ricoperto il ruolo di segretario della classe di fisica. Ora, io voglio solo aggiungere una cosa, per quelli che non sono, diciamo, chimici, la chimica è divisa in vari settori, non crediate che i vari settori parlino facilmente fra di loro, io provengo da un settore, il professor Barney proviene dalla chimica organica, per me la chimica organica è sempre stata una cosa misteriosa, molto complicata e per me anche molto difficile da leggere, non vi spaventate, è solo un esempio, questa è la sintesi della tetraciclina, ci sono otto passaggi, si parte una molecoletta e poi si aggiunge, si aggiunge, ecco, posso dire, lo parlavo con il collega Morterra, se l'avessimo fatto noi del nostro gruppo sarebbero arrivati forse al secondo step. e solo gli organici riuscivano a fare tutti questi step e arrivare con un minimo di prodotto e questa è la magia, diciamo, assolutamente la magia della chimica organica che noi non avremmo certamente potuto fare. Bene, io lascio la parola immediatamente. La Society of Dyers and Colorists, ente a cui viene attribuita grande autorevolezza in materia di scienza del colore a tutto campo, ha dato alle stampe nel 1988 il manuale Color Terms and Definitions, con l'obiettivo di stabilire in modo univoco la definizione dei termini ricorrenti nel campo della colorazione e delle aree ad essa collegate, ad uso didattico, industriale e di ricerca scientifica. La definizione di colore riportata nel manuale risulta fredda e diremmo punitiva, sia in inglese che in italiano, nei confronti di una delle cose più belle che la natura ci offre. Quella caratteristica della sensazione visiva, che rende capaci di distinguere differenze nella sua qualità, quali possono essere causate da differenze nella distribuzione spettrale della luce piuttosto che da differenze nella distribuzione spaziale o fluttuazioni nel tempo. Capite il tono a cui mi sono rivolto per leggerla? Io preferisco rinunciare a definirlo e dire che il colore è il colore. Così come l'acqua è l'acqua, la bellezza è la bellezza. Nel Paleolitico i pittori disponevano di due soli pigmenti inorganici, il carbone, soprattutto nella forma di nerofumo, e le ocre, ossidi di ferro, che a seconda della loro composizione coprono i toni di colore dal giallo al rosso, ocra gialla e ocra rossa. Le immagini riportate provengono dalle grotte di Chauvet, importantissimo sito preistorico scavato dal fiume Ardèche nella regione francese della Rhone Alpes, scoperte nel 1994 dallo speleologo francese Jean-Marie Chauvet, e dalle grotte di Lachaud, altro importantissimo sito preistorico nella Francia sud-occidentale, il dipartimento della Dordogna, scoperte nel 1940 da quattro ragazzi. Si noti che nella pittura più recente, si fa per dire perché ha 18.000 anni, si affacciano gli ossidi di manganese. Quindi abbiamo incontrato i primi quattro elementi chimici, ossigeno, carbonio, ferro e manganese. Si deve arrivare al XVI secolo per mettere le mani sul primo vero trattato sistematico di tintura, il plicto di Giovan Ventura Rossetti, Venezia 1548. Plicto significa raccolta dell'arte dei tintori che insegna a tingere panni, tele, cotone e seta, sia secondo l'arte maggiore che quella comune. Colpiscono due cose. La prima che siano stati proprio i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology in anni relativamente recenti a fare una accurata ricerca filologica sulle fonti reperibili a Venezia e ad avere avuto il fiuto di una edizione bilingue in veste tipografica di pregio. La seconda, che i tintori di Venezia si articolassero in due distinte caste di rilevanza sociale. L'arte maggiore, cui appartenevano i tintori in toni nobili, puri e vivaci, Schoenfarber, e quella comune dei tintori in toni bruni e cupi, Schwarzfarber. Viene riportata la ricetta di tintura dello scarlatto veneziano, nella versione italiana, dove si sono evidenziati i componenti principali. L'acido carminico, coccus cacti, allume di rocca, tartaro bianco, semola e arsenico. Questa è la versione inglese. Passano tre secoli dalla pubblicazione del plitto e si arriva alla storia più recente, quella dei coloranti sintetici. Il diciottenne William Henry Perkin, fotografato in veste di vecchio sir, grazie anche alla ricchezza accumulata con i proventi del brevetto della sua casuale scoperta, lavorando in un alloggio d'affitto, aveva litigato con il padre, alla sintesi della chinina per ossidazione dell'alliltoluidina, scoprì che si formava una massa di colore violetto, color malva, capace di tingere i tessuti. Fece quindi uso di anilina, più facile a reperirsi, dell'alliltoluidina, e di bicromato di potassio come ossidante. La via dei coloranti organici di sintesi, cioè preparati dall'uomo per reazione chimica, era stata aperta. Qui si vede l'interpretazione con il classico senno del dipoi della formazione della mauveina, che è un colorante contenente il nucleo della fenazzina, struttura relativamente semplice e familiare al chimico organico. A sinistra della freccia, che indica una reazione chimica, sono raffigurate quattro molecole di anilina che contengono in totale otto atomi di idrogeno, quelli evidenziati col simbolo H. Nella mauveina ne risultano spariti cinque, cosa resa possibile dal bicromato di potassio che cedendo ossigeno ha sottratto l'idrogeno sotto forma di acqua. La pagina che sto per mettere in campo esula dal tema della mia presentazione, perché è dedicata ad una riflessione che non posso tacere dopo aver chiamato in causa il 1856. Intorno alla metà del XIX secolo si è concentrata una serie di eventi di interesse nazionale e non solo tali, dei quali faccio una concisa né esaustiva citazione. La scoperta del telegrafo di Mors, le cinque giornate di Milano e lo statuto albertino, il regno di Sardegna, che fa la prima emissione di francobolli colorati e su questo il professor Conte ha lavorato verso la fine del 2017 in modo puntuale facendo una ricerca molto approfondita. Lui tra l'altro appassionato filatelico, non avrebbe potuto fare altrimenti. L'acido salicilico e l'aspirina, il congresso internazionale di Parigi che ha dato inizio alla transizione da romanticismo a realismo, Perkin appena detto, Pacinotti con la sua Dinamo e il telefono, Garibaldi prima a Marsala e poi a Teano, il congresso internazionale dei chimici di Karlsruhe che mise la parola fine ai pesi atomici in eretto il 61 della Unità d'Italia. Nello stesso anno il trattato ufficiale di Chevrolet e i suoi cerchi aromatici. Questo punto vi invito a memorizzarlo perché fra poco ci ritornerò. Karlsruhe con l'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Non ne ho di proposito aggiunti altri tre, sia perché mi sono venuti nella memoria negli ultimi giorni e non ho voluto modificare il PowerPoint, sia soprattutto perché è una pagina aperta al contributo di tutti. Dopo la mia conclusione, eventuali segnalazioni saranno ben accolte. 1844, la fondazione a Torino della reale società ginnastica, la Magenta. 1847 e 1851, le scoperte del nostro socio Ascanio Sobrero, della nitroglicerina, un esplosivo, e del Sobrerolo, un farmaco. 1863, al Castello del Valentino, un professore di mineralogia, fondò il Club Alpino Italiano. Era Quintino Sella. Qui si vede uno spaccato dell'occhio corredato da ben 17 elementi strutturali. A me interessa però focalizzare l'attenzione sulla fovea, cioè una piccola depressione nella retina che contiene i fotoricettori. Fotoricettori che sono coni e bastoncelli. I coni, in verde, sono responsabili della visione diurna e colgono con precisione dettagli e colori. Si parla di visione fotopica. I bastoncelli, in marroncino, invece veicolano un'immagine meno nitida, ma rispetto ai coni sono molto più sensibili alla luce e consentono all'occhio di vedere anche di notte in condizione di scarsa luminosità. È la visione scotopica. Il trapasso di consegne tra coni e bastoncelli al tramonto e viceversa all'alba richiede un certo tempo di adattamento perché gli uni non sono del tutto disattivati e gli altri non sono ancora entrati nel pieno delle loro funzioni. Sono ben noti i problemi di circolazione stradale in fase crepuscolare, visione mesopica. Nei paesi del nord, dove i crepuscoli rappresentano una consistente porzione delle 24 ore, ben prima che da noi è stato fatto obbligo di tenere accese le mezze luci dei veicoli e questo non già per farsi vedere dalle alci come si racconta, bensì per i problemi della visione mesopica. Il consiglio di sua maestà la regina che consigliò la vedetta della sua ammiraglia di rintanarsi al buio di una taverna subito dopo il tramonto e fino a un'ora prima di salpare per dar modo ai bastoncelli di entrare nel pieno della loro funzione. Bene, questo sfrondato dall'aspetto aneddotico resta valido. Così come oggi, entrando in galleria la luminosità è massima e si va attenuando man mano che ci si addentra. L'occhio organo meraviglioso soffre purtroppo di alcuni difetti. Scegliamone uno. L'occhio non è capace di distinguere se una luce sia monocromatica o policromatica. Una luce pressoché priva di componente blu ma ricca di verde e di rosso dà la stessa sensazione di giallo di una luce monocromatica con lunghezza d'onda di 582 nanometri. È tale la riga D del sodio che tutti vediamo quando l'acqua salata con cloruro di sodio bollendo tracima dalla pentola e colora in giallo la fiamma del fornello. Lo strumento che analizza nanometro per nanometro l'intensità della radiazione luminosa è lo spettrofotometro di assorbimento usato per i corpi trasparenti. Oggi qualsiasi laboratorio è dotato di questo strumento i cui costi negli anni si sono abbattuti ed il cui funzionamento è in pratica automatizzato. Ciò che deve essere evidenziato è che gli spettrofotometri non hanno il difetto dell'occhio ed analizzano perfettamente la composizione della luce. Per i corpi opachi si usa lo spettrofotometro di riflettanza che ricalca il precedente fatta salva la presenza alla fine o se preferite all'inizio del cammino ottico di una sfera che cattura la radiazione diffusa. Con la presente figura si apre una breve carrellata su alcuni scherzi giocati dall'occhio. Si osserva il pallino nero nel centro del trifoglio per alcuni secondi e si sposti lo sguardo sul pallino nel riquadro a destra. Si vedrà la stessa immagine ma colorata con i colori complementari. il verde diventa rosso e il giallo diventa blu. Per molti anni ho presentato agli studenti questo indovinello ma ho sempre avuto scarsa soddisfazione. Rembrandt, l'uomo con l'elmetto d'oro. Leggiamo la didascalia. Se si esamina con quali colori è stato ottenuto l'effetto dell'oro luccicante e allo scopo si coprono i colori circostanti si constata che il luccichio dorato proviene da un giallo molto torbido e le ombre della cesellatura da un colore oliva sporco. Io sono andato avanti parecchio a cercare questo colore oliva sporco però le olive per me sono verdi e poi un certo giorno sono stato fulminato e ho pensato che c'erano anche le olive taggiasche e quindi il raffronto con un campione commerciale oltre a imitare i trucchi del grande maestro dell'età dell'oro olandese potrebbe anche stuzzicare l'appetito e questo succedeva quando la lezione era da mezzogiorno a luna più delle volte. Un terzo e ultimo scherzo tra i tanti proponibili. Con l'invecchiamento gli umori all'interno dell'occhio ingialliscono provocando l'assorbimento della componente blu complementare del giallo donde il detto i vecchi vedono rosso. Si dice infatti che artisti che in giovane età hanno fatto uso di tutti i colori del visibile procedendo negli anni abbiano inconsciamente trascurato le lunghezze d'onda corte, blu per privilegiare quelle medie, verdi e soprattutto quelle lunghe, rosse. Tiziano nato nel 1490 a 32 anni dipinge il baccanale degli Andri in cui vede il cielo il mare un vaporoso vestito tutti di tonalità blu. all'età di 56 anni allora era a quel tempo si era vecchi dipinge Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese e qui il blu è sparito. Lo spettro elettromagnetico la luce è quell'insieme di radiazioni elettromagnetiche che viaggiano nel vuoto ad una velocità di circa 300.000 km al secondo diverse tra loro per lunghezza d'onda ed energia. L'energia del fotone del quanto di luce associato ad una data radiazione è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda del raggio luminoso vedete che lambda sta a denominatore. L'energia di un fotone ultravioletto per esempio di 250 nanometri calcolata da questa che è l'equazione di Einstein-Bohr tutti conoscono in prima battuta quella di Einstein da solo E uguale mc al quadrato bene calcolata è di 114,4 chilocalorie se si pensa che la materia organica è fatta praticamente da legami carbonio-carbonio la cui energia batte intorno all'ottantina di chilocalorie si capisce come un raggio di questo tipo abbia l'energia necessaria e più che sufficiente per rompere questo legame cioè per innescare la fotodegradazione dei composti organici quindi in spiaggia spalmatevi con filtri efficaci la dispersione che è quella che avviene quando una luce bianca viene fatta passare attraverso un prisma incoloro e trasparente a pareti non parallele e presenta un angolo tanto maggiore quanto più energetica è la radiazione la luce bianca cioè la luce solare è la somma bilanciata di tutti i colori spettrali dove spettrale d'ora in poi significherà esteso a tutto lo spettro visibile cioè da 400 a 700 nanometri questa vignetta di punch illustra l'inverso della dispersione cioè la sintesi delle luci che il frate realizza realizza con un imbuto virtuale onde evitare il fastidio di leggere sotto l'illuminazione non omogenea provocata dal passaggio della luce solare attraverso i vetri colorati della cattedrale è stata proposta la rosetta dei colori un geniale quanto prezioso riarrangiamento dello spettro del visibile per ottenerla si immagini di afferrare lo spettro per l'angolo destro blu indiruotare a modi fisarmonica o di ventaglio fino a portare l'angolo sinistro rosso a fronte del blu senza però portarli a contatto lasciandoci a uno spicchio vuoto la scala delle lunghezze d'onda non giace più su una retta alla base dello spettro bensì sulla circonferenza ed è interrotta lungo lo spicchio vuoto in cui si collocano i colori porpora cioè quei colori che non esistono nello spettro non sono colori reali non hanno una lunghezza d'onda ma sono delle semplici miscele di blu e di rosso più si va verso sinistra nello spicchio si avranno dei porpora rossastri e più si va verso destra dei porpora gluastri avevo detto di memorizzare che è Eugène Chevreul il quale propose i suoi cerchi cromatici cerchi cromatici che sono adesso lo metto in campo per evitare di scambiare le foto che sono praticamente una rosetta dei colori divisa in 72 spicchi quindi un'analisi molto accurata e questa proposta è stata molto utile come consiglio ai pittori ne vediamo due Chevreul bello e giovane e Chevreul decisamente vecchio perché fu un grande chimico organico un grande scienziato del colore e il fondatore della geriatria che sperimentò con successo su di sé perché morì a 102 anni eccolo qui il cerchio questo è il primo cerchio di Chevreul tenete presente che due livelli sopra la nostra testa ci sono delle pubblicazioni originali di Chevreul compresi perché questo è il primo ma ne ha fatti parecchi le miscele additive se su uno schermo nero si proiettano tre luci cioè sorgenti di colore primarie autoluminose blu verde e rossa in quantità opportunamente bilanciata alla loro intersezione comparirà il bianco alla intersezione delle coppie di luci compaiono i tre colori complementari rispettivamente giallo magenta e chang le miscele sottrattive se si interpongono tra una sorgente di luce bianca e l'occhio tre lastrine colorate trasparenti gialla magenta e chang alla loro intersezione comparirà il nero e cioè la luce bianca è totalmente assorbita alle intersezioni binarie compaiono i tre colori complementari blu verde e rosso la riflettanza se un oggetto non è autoluminoso cioè non è una luce per vederlo dobbiamo ricorrere a un illuminante se illuminiamo con luce bianca i costituenti dell'oggetto possono assorbirne selettivamente delle porzioni e l'oggetto rifletterà quelle non assorbite che nel loro insieme determineranno il colore del corpo qui vedete alcuni campioni colorati corredati dalla relativa curva di riflettanza che è la porzione di radiazione per ciascuna lunghezza d'onda cioè spettrale riflessa dalla superficie dell'oggetto se Lavoisier con la sua famosa legge di conservazione della materia che nella versione più semplificata recita nulla si crea e nulla si distrugge così Kirchhoff ha proposto il suo principio di conservazione dell'energia radiante l'intensità della radiazione incidente è uguale alla somma dell'intensità della luce riflessa assorbita e trasmessa sono i tre possibili destini che la luce incidente può conoscere molte grandezze sono misurate con accuratezza dai tempi più remoti il discorso si fa difficile quando si tratti di dare una valutazione quantitativa a grandezze psicologiche soggettive cite nella sfera dell'imponderabile in prima battuta il colore sembrerebbe una di queste ma la scienza del colore è riuscita ad imbrigliarlo trovando dei parametri degli strumenti che lo misurano in modo sicuro e universalmente accettato attributi della percezione psicologica del colore la tinta o tono all'inglese hue definisce la posizione del colore nello spettro visibile facendo uso di nomi verde giallo rosso o nomi aggettivati rosso giallastro verde e bluastro la saturazione o purezza saturation croma definisce la forza della risposta cromatica in termini di quanto una data tinta si avvicina al suo livello di saturazione spettrale i colori ottenuti disperdendo la luce con il prisma sono i più saturi esistenti in natura tinta e saturazione sono gli attributi cromatici e definiscono la cromaticità di un colore poi ce n'è una terza che è la chiarezza o luminosità lightness value che è l'attributo sembra un ossimoro acromatico del colore e definisce la posizione di un colore di data cromaticità in una scala che va dal bianco al nero l'erba del prato ha una sua cromaticità però quella all'ombra ha un colore diverso da quella al sole perché una è vista con bassa chiarezza e l'altra con alta chiarezza il primo approccio per la semplificazione oggettiva super partes del colore è basato su sistemi di raffronto visivo con campioni fisici tra questi ha avuto grande successo quello proposto da Albert Henry Mansell Mansell era uno studioso del colore ma contestualmente era un bravo pittore capace quindi di coniugare l'arido mondo dei numeri con quello affascinante psicologico dell'arte pittorica si scrive Mansell si pronuncia Mansell è stato facile per me fare così all'epoca Nigel Mansell era campione del mondo di Formula 1 sulla Honda sono quei trucchetti per alleggerire un po' la pressione didattica questa prima immagine rappresenta l'albero di Mansell definito da tre coordinate U tono tinta cromatica radiale che individua un cerchio su cui stanno i vari colori croma saturazione purezza coordinata cromatica lineare che individua e quantifica quanto un colore si avvicina al suo simile ottenuto per dispersione della luce e value chiarezza e luminosità coordinata cromatica lineare verticale che individua e quantifica un colore in termini di chiaro scuro qui vediamo ecco quei modelli di paravia a scopo didattico tenete presente è molto sfoltito perché l'Atlante di Mansell contiene 1500 campioni per il raffronto tingimi una pezza di poliestere lunga 20 chilometri 5Y7 barra 10 5Y7 barra 10 individua uno di quei 1500 campioni di Mansell 20 chilometri non devono spaventare nessuno in una tintoria industriale non ti pago perché è diversa dal colore convenuto e allora si parlavano da zone diverse troviamoci a Prato mercoledì alle 10 con il campione dell'Atlante di Mansell la pezza tinta e cosa però arrivati lì il tintore dice è uguale identica il committente no è più fosco e quindi non vanno d'accordo ho scelto Prato siamo davanti al Duomo di Prato perché è una città dalla storia e tuttora dall'attualità anche se è un po' tinta di cinese nel campo tessile coloristico i miei amici di Prato si auto ironizzano definendosi siamo i sciencaioli lasciatelo dire a loro perché se andate a Prato e dite a un Pratese sei un cenciaiolo ne uscite con le ossa rotte bene allora visti questa carenza di sistemi di valutazione del colore per semplice controllo visivo complice il carattere soggettivo della vista si è stabilito di far leggere il colore a uno strumento universalmente tarabile ed esprimere risultati con numeri è nata la colorimetria o metrica del colore ad opera della International Commission on Illumination qualcuno dirà ma perché l'acronimo CIE perché all'origine era francese Commissione Internazionale dell'Eclairage poi è diventata International è rimasto CIE però perché se è I.C.I. avrebbe colluso con la ICI l'Imperial Chemical Industries il colosso inglese della chimica o peggio ancora visto che siamo nei giorni quasi giusti la ICI la tassa l'imposta comunale sugli immobili per gli italiani non è un refuso questa immagine questa videata è bianca perché a questo punto vi chiedo un atto di fede avrei potuto scrivere omissis quello che vi dirò nella prossima diapositiva ci dovete credere fidarvi se non vi fidaste io farei come con gli studenti perché questa videata bianca mi prendeva una settimana di lezione quindi spero che nessuno voglia cadere e allora ecco la fase finale della colorimetria si ottengono i valori tristimolo x grande y grande z grande due oggetti colorati hanno lo stesso colore se hanno identici valori di x grande y grande e z grande e come notate nello sviluppo dei tre integrali c'è sempre quella r di lambda che è la riflettanza che è l'impronta digitale il dna il fingerprint del colore e lo misura lo spettrofotometro di riflettanza gli studiosi del colore soprattutto i matematici hanno espresso svariati spazi di colore tutti però derivanti da elaborazioni più o meno complesse dei valori tristimolo e tra i molti ha avuto successo quello proposto dalla CIE nel 1986 che si chiama appunto CIE Lab perché le tre coordinate che definiscono lo spazio lo spazio di colore CIE sono L A e B nel 1993 fui relatore di una tesi di laurea sperimentale da parte di un docente di laboratorio presso la pregiata scuola enologica di Alba il candidato poteva fortunatamente disporre di un grande numero di campioni di vini differenti tutti di pregio e di annate diverse di ciascuno dei quali poter misurare la posizione del colore nello spazio CIE Lab anche se la figura non è molto chiara a causa dei molti punti molti vuol dire altrettante bottiglie stappate delle quali si consumavano due millilitri per fare la misura e vi lascio immaginare la fine del rimanente punti che si affollano in domini ristretti è tuttavia stato possibile configurare delle giaciture preferenziali dei singoli vini nello spazio di colore si è così potuto appurare che due campioni etichettati Barolo invadevano lo spazio dei Barbera frutto di uno scambio per errore o di una autentica adulterazione e la cosa ha avuto conferma anche dall'insieme degli esami organolettici eseguiti in parallelo mi verrebbe da proporre che nelle etichette dei vini DOC e DOC G vengano riportati i valori di L A e B senza però sopprimere quella piacevole aggettivazione che solletica il gusto del consumatore vino dai riflessi aranciati barbaresco vino dal colore rosso rubino intenso e così via nel 1991 fu il relatore di una tesi dedicata all'applicazione delle tecniche colorimetriche nel campo dei beni culturali e del restauro si fece uso di uno strumento portatile funzionante a pile che venne portato in sito sulla facciata dell'abbazia di Vezzolano in provincia di Asti gioiello dell'architettura romanica voluta da Carlo Magno nel 1095 erano in corso i lavori di restauro della facciata per i quali erano state montate le impalcature e la sovrintendenza ai beni culturali del Piemonte ci autorizzò le misure tra l'altro assolutamente non invasive siamo quindi venuti in possesso di una mappa dei colori della facciata utile nel caso di loro riproduzione fedele riferita alla situazione del 1991 in occasione di futuri interventi di restauro le fibre le fibre si dividono in tre grandi famiglie le fibre naturali che a loro volta si suddividono in animali cioè proteiche e vegetali cellulosiche tra le animali e le più comuni lana seta cuoio e pellicce tra le vegetali cotone lino canapa iuta e ramier animali produttore di lane le capre e i camelidi la capra d'angora che ci dà il moher la capra casmia che ci dà l'omonima fibra e la capra domestica che ci dà il pelo di capra vulgaris ma pur sempre pregiato i camelidi si dividono in cammello e auchenidi dromedario e battreano l'uno e alpaca lama vigogna e guanaco gli altri le fibre artificiali che si dividono in animali proteiche e vegetali che però si chiamano cellulosiche e rigenerate le fibre artificiali sono il risultato di una trasformazione chimica operata dall'uomo usando come materia prima fibre naturali finalizzata o al recupero di cascami cenciaioli o non altrimenti utilizzabili o al conferimento di proprietà d'uso che le fibre naturali di per sé non posseggono delle animali le caseini che dalla caseina del latte che hanno avuto successo diciamo in tempo di autarchia mentre le vegetali sono i rayon il viscosa il cupro e gli acetati di cellulosa tuttora ben piazzati sul mercato la struttura della cellulosa è un polimero del glucosio come vedete a sinistra in alto c'è il monomero un pezzo di catena polimerica e nel riquadro basso a destra la microscopia elettronica appunto di una fibra di cellulosa per poter fare altrettanto delle fibre proteiche dovete accettare una lezioncina di chimica che cos'è il legame ammidico o peptidico è quello che si realizza quando tra un acido e un'ammina si ha la eliminazione quella incorniciata di una molecola d'acqua e così viene fuori il legame NHCO che è appunto il legame ammidico quando una macromolecola ne contiene fino a 50 si parla di peptidi e polipeptidi quando superano i 50 si parla di protidi cioè comunemente di proteine siamo di fronte a un'immagine molto importante perché Linus Polling è stato quello che ha proposto la struttura adelica spaziale di una proteina cioè dell'alfa cheratina siamo nell'anticamera del DNA se non già nella sala del DNA e Polling fu mi pare uno dei tre scienziati che furono insigniti di due premi Nobel uno era un fisico l'altro era Madame Curie e Polling prese il premio Nobel per la chimica e per la pace e qui siamo in grado di vedere questa geniale schematizzazione della sottostruttura della lana a sinistra si parte con l'elica appena vista siamo nella scala dei nanometri cioè 10 alla meno 9 metri un miliardesimo e la struttura via via si complica fino a quella del pelo finale cioè quello che strappiamo alla nostra bella capra dove siamo sulla scala dei micron i micrometri 10 alla meno 6 un milionesimo sulla corona esterna compaiono ben 18 attributi della lana con relativa collocazione dei vari elementi sottostrutturali che ne fanno la regina delle fibre tessili per un regno che non tramonterà mai elasticità resistenza al fuoco tocco e drappeggio traspirazione antisporco e così via terza e ultima le fibre sintetiche cioè le fibre chimiche qui sono elencate poliammidiche poliesteri polieniche poliureiche e poliuretaniche due parole sulla prima sui nylon qui si vede il dottor Caroters della Dupont che direttore delle ricerche che praticamente nell'anno in cui morì presentò il nylon dicendo vi farò un filo più sottile della seta del baco o della capra Kashmir due microscopie elettroniche a sinistra lana e cotone che lasciano chiaramente vedere che la superficie rugosa offre delle discontinuità cioè dei siti di attacco da parte dei reattivi coloranti in particolare mentre a destra il poliestere fibra chimica che ha una superficie liscia come se fosse una piastrella di ceramica e quindi difficile da aggredire le fibre proteiche si tinguono con coloranti acidi al mordente basici e altino due parole su quest'ultimo l'indaco rappresentante tipico di questa classe di coloranti è un pigmento ovvero una molecola colorata ma insolubile in acqua e come tale non impiegabile per l'allestimento di un bagno di tintura è necessario quindi ridurlo all'eucoforma solubile quella di destra con una operazione a parte che si faceva in un tino ed ecco il nome da dove deriva la leucoforma solubile penetra nella fibra vi si fissa e viene infine riossidata a pigmento insolubile per semplice esposizione all'aria o immersione in un bagno ossidante tipo acqua ossigenata diluita le cellulosiche si tingono con i coloranti diretti reattivi azoici e basici per gli acetati di cellulosa e le fibre sintetiche non è andata così bene perché abbiamo visto che sono idrofobe compatte prive di gruppi polari o ionici fatte poche eccezioni non risultano tingibili con le classi di coloranti fin qui esaminate si è trovata con fatica ma altrettanto successo una classe specifica che ben si presta alla natura alla tintura degli acetati e delle fibre sintetiche in generale sono i coloranti dispersi i quali non contengono gruppi solubilizzanti ma solo gruppi polari che conferiscono la capacità di fare non soluzioni ma dispersioni stabili aiutate da ausiliari che si chiameranno disperdenti e che per lo più appartengono alla classe dei tensiottivi quadro riassuntivo delle classi che abbiamo visto immagine romantica che però ci lascia intravedere tutta la pericolosità delle operazioni di tintura fatte in questo modo è ancora più pericoloso in questa immagine e fortunatamente il pericolo è sparito con le moderne macchine di tintura a ciclo chiuso dove il contatto fra operatore e prodotti chimici è del tutto escluso questa pagina non sto a leggerla dico solo che tutti sappiamo che l'acqua è un bene prezioso da acquisire e poi impone nei reflui di tintura protocolli di depurazione prima della reemissione nei circuiti e quindi e quindi ne è nata la pesante concorrenza della tecnica di stampa tessile basata sull'uso di pigmenti veicolati da ausiliari si da formare inchiostri e paste per stampa praticamente esenti da acqua dalla reologia ottimale reologia significa fluidità scorrevolezza come si vede dalle immagini che presento la pezza scorre sotto rulli in serie ciascuno con inciso un proprio disegno è alimentato a latere la latere lo vediamo meglio ancora in quest'altra analoga immagine dall'inchiostro colorato a fine percorso la pezza ne esce colorata rispettando il disegno voluto dallo stilista e richiede una semplice fase di aerazione la automazione computerizzata gioca un ruolo fondamentale nella gestione semplificata dell'intero processo oggi i rulli sono stati rimpiazzati da testate scorrevoli che gestiscono un numero enorme di aghi finissimi che iniettano l'inchiostro su comando di una centrale informatica siamo entrati nel campo dell'alta definizione dei pixel e si parla in questo caso di stampa digitale in un congresso tenutosi a Como dove Renzo lavorava nel settificio Como però oggi è un distretto di eccellenza nella stampa digitale avevo sentito per la prima volta che gli industriali di Como temono soprattutto la concorrenza di quale paese la Turchia e quindi e quindi a Como quando le mamme portano i bambini alla scuola materna quelli dicono mamma di Turchi coloranti naturali il capitolo li presenta in forma di scheda sinottica standard faccio subito a mettere in campo la prima come vedete ci sono nove attributi di ogni colorante raffigurati il nome il tono di colore il numero di color index la formula il vegetale o l'animale da cui si estrae i metodi di applicazione l'origine primaria geografica da cui il colorante naturale proviene questa si dice crocetina ma non tutti la sanno inquadrare se però si dice zafferano tutti pensano immediatamente a un bel piatto di risotto allo zafferano che è giallo per la dispersione in massa mentre la polverina gli stimi che si acquistano è rossa per la sua provenienza era chiamato l'oro rosso d'oriente dove accanto all'impiego come aromatizzante erano diffusi quello rituale e quello terapeutico quest'ultimo sfrutta tutt'oggi le sue proprietà stimolanti e antidepressive la quercetina è anche presente nelle cipolle nelle mele nel vino rosso e per la sua caratteristica di antiossidante funziona come agente chemio preventivo cioè per la cura preventiva dei tumori con la bixina si passa al tono arancio appartiene alla famiglia dei carotenoidi e trova impiego come colorante vegetale per la colorazione di alimenti farmaci e cosmetici la morinda è caratterizzata da un odore sgradevole seppure sia stata impiegata per conferire gusto agli alimenti e conservarli dai semi della pianta si ricava un olio che esercita effetto repellente sugli insetti si dice che il grande navigatore ed esploratore James Cook avesse annotato nel suo diario il fastidioso odore di formaggio che aleggiava nelle isole della Polinesia causato dalla diffusione di questo vegetale la alizarina è ricavata dalle radici della robbia dei tintori ma sia per il grande successo che ha riscosso sia per la relativa semplicità della sua struttura meno semplice è il nome 1 2 di idrossi antrachinone è stato oggetto di numerosi processi di sintesi primo dei quali quello del 1870 poiché la alizarina attingeva con facilità le fibre animali ma non il cotone e il lino partì dall'India e si diffuse in Turchia e in Grecia una tecnica chiamata tintura rosso turco turkey red basata su una elaborazione della alizarina con oli saponi e sali di alluminio e stagno il rosso turco fu infatti il colorante che tinse di rosso le camicie di cotone di Garibaldi e dei suoi mille dell'Indaco abbiamo già detto a sufficienza possiamo giusto vedere le foglie delle indigofere e passare al tono verde della clorofilla che è il pigmento universalmente diffuso nel mondo vegetale sia terrestre che marino si noti che se il metallo coordinato anziché il magnesio mg è il ferro FE si ha l'emoglobina del sangue della gossipetina che tinge in toni bruni gli schwarzfarber può far stupire che estratta dal candido cotone possa tingere nei toni bruni non si dimentichi che la mordenzatura è abitualmente accompagnata da un incupimento del colore l'ematossileina è il principale colorante vegetale di tono nero è estratta dal ematoxilon campechiano più noto come legno di campeggio con l'acido carminico si passa ai coloranti di origine animale l'acido carminico viene estratto dalla femmina dell'insetto per la sua mordenzatura si usano abitualmente sali di alluminio si ricordi che lo scarlatto veneziano che impiegava acido carminico e allume di rocca la porpora è il classico colorante di tono rosso di origine animale si noti l'analogia strutturale con l'indaco è il di bromo indaco l'uomo comune non solo lui pensando ai coloranti di origine animale non può fare a meno di riflettere sul numero vertiginoso di insetti e di molluschi che sono stati sacrificati prima dell'avvento dei coloranti sintetici la presente figura riporta alcuni campioni di tessuto di cotone con tinti con coloranti naturali ai giorni nostri si noti che si possono realizzare toni particolari beige viola tortora alquanto desaturati cioè pastello quando si parla di coloranti e dei loro riflessi sulla salute e sull'ambiente si entra in un campo minato in anni relativamente recenti si è assistito a campagne e sui media dai riscontri in campo politico giudiziario che hanno indiscriminatamente demonizzato i protagonisti della colorazione qui si affronta la problematica sulla base di casi esemplari scelti con la massima obiettività nell'intento di non fare di ogni erba un fascio riconoscendo ai coloranti i reattivi difetti senza disconoscerne i pregi ho scelto sfondo rosso per i difetti e sfondo verde per i pregi e allora cominciamo con lo sfondo rosso dove compare l'amaranto si tratta di un azzo colorante che per una settantina di anni è stato impiegato come additivo alimentare in particolare negli aperitivi e nelle bevande alcoliche e non quando 42 anni fa si considerò esaurita la fase di ricerca tossicologica il colorante venne delistato e bandito con la motivazione sospetto cancerogeno di qui a dire che tutti i coloranti dovevano essere banditi che tutti gli aperitivi si dovevano presentare con il look dell'acqua fresca e addirittura che un mondo grigio era da preferirsi a quello colorato il passo fu breve la sigla E123 si riferisce agli additivi in campo europeo e il numero se compreso nell'intervallo 100 199 indica che quell'additivo è un colorante insisto sullo sfondo rosso per parlare delle ammine aromatiche l'anilina è la loro capostipite l'abbiamo già trovata con Perkin la qualifica aromatico è di derivazione puramente chimica e non ha nulla a che vedere con il significato corrente del termine gran parte delle ammine aromatiche ha infatti odore sgradevole la benzidina quella sotto è l'ammina aromatica con cui si sono prodotti innumerevoli coloranti la cui produzione ed impiego è proibita non ancora a livello globale ma sicuramente nelle nazioni come l'Italia che hanno maturato una marcata coscienza ecologica se i funzionari dell'ARPA andassero a prelevare un campione nel Gange o nel fiume giallo troverebbero delle belle sorprese ci vuole anche lo sfondo verde questo è un colorante certificato questo significa che ha superato tutti i filtri valutativi che viene impiegato per i rossetti delle labbra e il gioco si fa adesso ancora più delicato sempre in campo verde perché si passa da un cosmetico a un farmaco altro è farsi belle le labbra altro è curare una malattia il primo farmaco che propongo è la sulfasalazina tanto per cominciare è un azocolorante profarmaco e per finire si decompone a livello intestinale in acido 5-ammino salicilico una ammina aromatica che è il farmaco finale a quest'ultimo spetta l'effetto terapeutico nella cura delle coliti ulcerose il secondo profarmaco quello di destra ovviamente anche lui azocolorante è la olsalazina che nel corso del metabolismo genera due molecole di acido 5-ammino salicilico conclusione azocoloranti usati come farmaci la cui componente attiva è una ammina aromatica merita segnalare che un isomero dell'acido 5-ammino salicilico è l'acido 4-ammino salicilico para ammino salicilic acid PAS ancora si tratta di un'ammina aromatica che ha curato la tubercolosi in milioni di pazienti ultimo capitolo piccolo stacco per fare dei ringraziamenti io devo ringraziare i molti amici che mi sono stati vicini nel mio lavoro di chimico organico per un emisecolo o poco più e vi avevo anche detto che dopo Mansell avrei introdotto un altro pittore è alla mia sinistra Adriano Zecchina che è un grande chimico fisico un grande scienziato dei materiali è un valente pittore a lui sempre in clima di ringraziamenti devo praticamente tutto quello che dirò perché ho preso parecchio da una sua comunicazione precedente per redigerlo se si parla di un mondo colorato anche se i coloranti e i pigmenti organici sintetici i miei diciamo giocano un ruolo quantitativamente preponderante e grazie alla grande variegazione di toni di colore delle proprietà di uso sarebbe incompleto un panorama che non presentasse i pigmenti inorganici che contribuirono e contribuiscono ad arricchire la tavolozza dei pittori a colorare monumenti facciate e interni di palazzi manti stradali e addirittura sostanze alimentari riprendo l'immagine del paleolitico per ricordare appunto che abbiamo incontrato carbonio ossigeno ferro e manganese veniamo a 1350 anni prima di Cristo con la tomba di Nebamum a Luxor dove si vede l'elenco dei coloranti dei pigmenti a disposizione e se si guardano le formule entrano in scena altri nove elementi chimici e precisamente piombo antimonio arsenico zolfo alluminio sodio silicio rame e fosforo senza entrare nei dettagli consideriamo che molte rocce sono silicati quindi silicio solfare e solfatare non sono solo in Sicilia quindi zolfo gli allumi sono da sempre a disposizione di tutti e così dicasi e quindi e quindi alluminio e così dicasi dei fosfati di cui è ricco il corno d'Africa l'esame dei toni di colore rivela una certa scarsità di verdi e una ampia disponibilità di gialli venivano veicolati da albume o gomma arabica saltando al medioevo si scopre che al di là della comune immagine di periodo storico muto latente immobilista le innovazioni pittoriche sono notevoli entrano in campo due pigmenti il vermiglione e l'oro il vermiglione veniva questa l'ho già vista preparato con una sintesi alchemica scaldando una miscela di mercurio e zolfo per cui si formava il solfuro di mercurio Hgs come minerale si trova in natura il cinabbro il cui costituente principale è il solfuro di mercurio e di cui è molto ricco da noi il monte Ammiata l'oro in lamina è un caso limite di pigmento per il tipo di applicazione del tipo oggetto su oggetto e prima che la chimica rovini l'arte in tono quasi dissacratorio soffermiamoci almeno a goderci questo capolavoro del grande maestro vissuto per soli 27 anni e conservato nel museo di Capodimonte un esempio di lamina d'oro è la copertura della celebre moschea di Gerusalemme per limitare i costi venne poi proposto l'oro musivo delle cui ricette di preparazione sono pieni i manoscritti medioevali si tratta di salto di solfuro stannico SN S2 nei secoli XVII e XVIII fecero la loro comparsa altri pigmenti che presento in forma tabulare le presentano fra poco leggiamo subito che le formule possono sembrare ostiche ma vengono riportate per dovere di completezza anche gli estrani alla materia non faticano a vedere che entrano in ballo altri sette elementi chimici oltre a tutti quelli via via presentati zinco bario cromo cadmio cobalto stagno e selenio e i veicoli dei pigmenti oltre ai citati allume e gomma arabica sono oli vegetali vari quali olio di lino olio di noce olio di papavero eccoli qui potete sbizzarrirvi vedete il nome il nome chimico la formula nel finire del XIX secolo Van Gogh dipinse una serie di girasoli di cui viene riportato uno degli esemplari di maggior successo risulta che lo stesso Van Gogh si compiacesse e gioisse di poter disporre di tanti pigmenti per realizzare i suoi capolavori arrivando a dire il pittore del futuro sarà un colorista come non se ne sono mai visti prima senza nulla togliere all'arte di arrangiarsi del paleolitico è chiaro che un dipinto di questa levatura non sarebbe immaginabile senza la disponibilità in tavolozza di questi nuovi pigmenti con questo quadro di Matisse si chiude l'esame pur sempre sommario dei pigmenti inorganici ad uso degli artisti il 1911 può essere individuato come l'epoca dell'esplosione della sintesi dei coloranti e dei pigmenti organici in senso di quantità e di qualità la chimica organica compie il tra virgolette miracolo la magia è stato detto di produrre migliaia o meglio milioni di composti facendo uso di una rosa ristrettissima di elementi chimici carbonio idrogeno ossigeno azoto zolfo cloro e pochi altri per cui mi bastano le dita delle due mani la chimica dei polimeri figlia della chimica organica ha prodotto resine sintetiche a base polimerica adatte per la veicolazione dei pigmenti come le resine acriliche il pittore di oggi e anche di qualche decennio fa dice correntemente io dipingo con gli acrilici acquistando nel colorificio tubetti variopinti che coprono tutte le esigenze cromatiche ed applicative e non è finita così perché le nanotecnologie stanno arricchendo i mercati di prodotti dalle proprietà peculiari aprendo la via a tecniche basate su effetti speciali se quando uscirete di qui qualcuno vi chiederà che cosa avete fatto questo pomeriggio io mi permetto di darvi il suggerimento per una risposta vorrei un colorante vicino a Torino qual è il colorante di Chieri il colorante di? di Chieri sì cioè diciamo il centro tessile il centro tessile il cotone il cotonificio non faccio il nome di Chieri è un centro molto dipende di che tono il gualdo non lo so deve essere deve essere un colorante commerciale no non è è un colorante vegetale è un colorante vegetale che dicono che fosse usato già nel paleolitico Cesare lo dice che è di origine celtica e adesso non mi ricordo il nome esatto Isatis credo che si chiama come? Isatis ho detto bene allora Isatis Tintoria il guado o gualdo quindi non si sa bene se si deve dire guado o gualdo sì sì quindi volevo sapere era una curiosità insomma perché è vicino all'intaco però cambia colore andando sul blé facendo l'amortenzatura come dice in leuco derivati poi e poi l'amortenzatura un'altra cosa che vorrei dire è che dal punto di vista medico io sono un medico l'anilina non è cancerogena sono i prodotti i derivati dell'anilina perché l'organismo umano spiega nel fegato fa l'idrossilazione dell'anilina e l'idrossilante è quella la la molecola attiva che è cancerogena questo perché quando lei dice le ammine aromatiche alcune sono terapeutiche altre invece danno dalle canne quindi dipende non dal gruppo ma da tutte le derivazioni che ci sono intorno un'altra cosa vorrei dire quando lei parla delle ammine e oggi si sta parlando anche che le ammine che si formano nell'intestino possono essere cancerogene anche loro la linea guida fondamentale è che se una molecola è fatta di carbonio idrogeno e ossigeno è tendenzialmente innocua quando entra in campo l'azoto come succede nelle ammine possono diventare degli intercalatori del DNA e quindi farlo impazzire e prendere la via del cancro c'è qualche dun altro in fondo non l'avevo visto no ce ne sono ancora buonasera grazie io mi annovero fra coloro che dicendo un'eresia hanno apprezzato il giudizio universale prima di più prima del restauro che dopo il restauro per via di questo blu troppo intenso eccetera se ne hai parlato anche qui qualche tempo fa la mia domanda è questa a prescindere cioè a prescindere a parte la sporcizia la fuligine lo sbog e quant'altro eccetera i colori perdono il proprio colore se lo perdono ci sono colori che lo perdono di più e qual è la causa cioè voglio dire qui abbiamo anche un quadro un quadro dipinto 300 anni fa è impossibile che oggi lo si veda come l'ha vista l'autore penso che sia dipende naturalmente dal tipo di colori che si impiegano nel restauro della cappella Sistina era intervenuto lo spettrofotometro di riflettanza è stato uno dei primi impieghi ma proprio di taglia grossa non il mio a pile portatile e quindi su quella base era stata fatta l'analisi dei colori esistenti e su quella base si è fatto il restauro come fa oggi un carrozziere il carrozziere ha il colore della carrozzeria da restaurare va dal fornitore che ha il tintometro che è una sorta di spettrofotometro di riflettanza che gli dà la ricetta di tintura per riprodurlo fedelmente quanto poi ripeto alla durata nel tempo dipende voi dall'esposizione voi infatti vedete tutti i quadri in tutti i musei sono protetti da un punto di vista climatico per evitare il degrado che però a me pare guardo qui in alto qui c'è stata la rottura di un naspo nel Natale di 8-10 anni fa che aveva allagato tutto è stato montato tutta la trabattellatura ed è stato restaurato e vedo che insomma qui parliamo di Palazzo dei Nobili 1739 che era l'anticamera del 73 fondazione dell'Accademia Cigna Saluzzo e Lagrange e Vittorio Amedeo terzo con le regge patenti comunque questo è quanto tra i meriti dei colori c'è da annoverare anche la microbiologia e la chemioterapia cioè nella seconda metà dell'Ottocento quando soprattutto in Germania hanno incominciato a sintetizzare nuovi colori eccetera Paul Erich e altri hanno incominciato a usare questi colori per colorare i microbi e quindi sono riusciti a vedere i microbi attraverso questi colori e poi da quello sono partiti con l'idea che siccome i colori si attaccavano ai microbi quindi fosse possibile avere delle sostanze analoghe che in qualche modo ammazzavano i microbi e così è stato scoperto il neosalvarsal che è stato l'inizio appunto della chemioterapia e non per niente Paul Erich ha avuto il premio Nobel appunto per questo potrei aggiungere il prontosillo rubrum insomma ce ne sono stati parecchi potrei aggiungere che che cosa mi ha detto all'inizio la preparazione delle lastrine microscopiche per colorare i substrati ci sono appunto coloranti appositi grazie grazie adesso grazie Ermano grazie Ermano per questa rutilante tavolozza di colori organici soprattutto se capisco bene inorganici volevo non aggiungere nulla a questa tavolozza come ovvio ma semmai alla tua tavola iniziale di date importanti intorno alla metà dell'ottocento perché il 59 1859 è l'uscita del libro di Darwin eh già e il 1864 è l'unificazione delle forze elettromagnetiche di Maxwell e il 1869 è Mendeleev certo a Cazzo c'era Mendeleev che Cule e poi se vuoi ce ne sono altre per esempio il 1859 e anche il teorema di Kirchhoff che porterà lo spettro del corpo nero e così via hai nominato di buono volevo solo una pignoleria da fisico è uguale a Canu e di nuovo l'equazione di Einstein è quella con cui gli viene dato il premio Nobel nel 21 e se forse era risultato anche da quella mostra quindi è proprio solo Einstein non Einstein Bohr molto bene hai nominato Maxwell diciamo i precursori della scienza del colore sono stati Newton Maxwell e perché no Goethe lì al centro si ancora e poi c'è un'altra osservazione qua lei ha parlato di carrozzieri io leggendo un libricino per bambini proprio pochi giorni fa e parlava proprio dei colori per insegnare ai bambini il discorso dei colori e ho letto che adesso c'è un'altra classificazione ancora più numerosa che non mi ricordo il nome posso dire di Pontano una cosa del genere che viene utilizzata proprio per per la grande varietà di colori e poi sono curioso quello che ha detto nell'ultima nelle ultime sue parole che ci sono dei coloranti adesso che cambiano completamente a secondo dell'esposizione alla luce o al differentemente mi può dire qualcosa in più la sua è stata magnifica è stata veramente una conferenza veramente bellissima ne ho viste e sentite veramente tutti i colori ma in modo positivo e la ringrazio di questo ha citato tutte le variazioni di colore indotte dall'esterno si parla di alocromia o alocromismo e cioè la variazione di colore in funzione del pH no? gli indicatori gli indicatori chimici segna proprio il pH perché influisce sul colore il fotocromismo cioè il cambio di colore per effetto della luce è tipico che uno le coppie metameriche uno va nel negozio e sotto un certo illuminante compra pantaloni e giacca dello stesso colore esce sul marciapiedi e vede che il pantalone ha colore diverso dalla giacca proprio perché sta in quella immagine bianca avevo fatto vedere delle curve insomma dell'osservatore standard della C eccetera eccetera c'è appunto questo alocromismo fotocromismo termocromismo quante volte capita col ferro da stiro di passare e dopo che il ferro è passato il colore cambia abbiamo persin trovato noi il piezo cromismo abbiamo trovato un colorante giallo che con una spatola schiacciato diventava arancione e però reversibilmente recuperava il tono giallo dopo qualche minuto e questo lo si poteva fare all'infinito quindi sul colore influiscono parecchi fattori esterni la ringrazio mi permetto di esprimere una mia curiosità lei ha fatto ha parlato dell'effetto dell'età e ha fatto l'esempio di Tiziano che usava prevalentemente il blu da giovane e il rosso da meno giovane volevo sapere se ci sono altri esempi o comunque dove possiamo andare a cercare eventualmente esempi di questo tipo applicato da altri pittori penso che basti un po' sfogliare voi su Interte voi nei musei voi sulle sui libri sui libri ma sono stati fatti studi sistematici del colore sì sì no è garantito che gli umori ingialliscono che il giallo assorbe il blu e quindi è chiaro che se il pittore forza se stesso magari vede anche il blu ma l'approccio spontaneo non glielo lascia non lo fa colpire dal blu preferisce i verdi e i rossi ma infatti io devo confessare che ho scelto Paolo III e i nipoti Farnese ma probabilmente anche in quell'età qualche dipinto di Tiziano con del blu lo si può ancora trovare tornando all'argomento già toccato in precedenza della stabilità dei colori specialmente dei colori usati nell'antichità che erano quasi esclusivamente pigmenti inorganici e molto dipende naturalmente dal pigmento che era stato usato se pensi un attimo ai dipinti di Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze i blu sono ancora perfettamente blu dopo più di 500 anni perché aveva una committenza ricca e usava il lapislazzolo i cieli degli affreschi di Giotto in assisi che aveva una committenza povera sono diventati verdi perché usava l'azzurrite che è diventata malachite malachite azzurrite se posso fare un'osservazione che riguarda la degradabilità l'indaco che viene usato veniva usato nell'antichità per i tessuti sbiadisce pensate solo ai blue jeans al denim ai blue jeans sbiadisce con la luce per effetto gli inca aveva trovato come non lo so ma mescolando l'indaco con delle argille particolari racchiudevano la molecola di indaco dentro una cavità dell'argilla e adesso sono stati scoperti non molto tempo fa dei manufatti perfettamente blu con indaco mentre quelli antichi sono spariti tutti il blu che c'è è quello che non sparisce è l'apislazzoli è un inorganico ma i blu diciamo gli azzurri organici se ne vanno lentamente ma se ne vanno fotossidazione hai nominato un'argilla o come cioè è un ambiente che confina crea un constraint alla molecola e non la lascia degradare perché blocca i movimenti conformazionali per parlare la chemia quindi la irrigidisce è chiaro che se tu impedisci una molecola di fare tutto il giorno così le impedisci di degradarsi se posso ancora fare un'osservazione che mi ha molto colpito ma di quello che ha detto lui la clorofilla e l'emoglobina sono la stessa cosa solo che al centro c'è un magnesio e dall'altra parte c'è un oione ferro il che vuol dire che la natura quando ha scoperto diciamo un chelante complesso l'ha tenuto cioè siamo proprio gemelli dei vegetali tutto sommato ma infatti io mi domando un bambino che ha dieci anni per un qualche incidente perde la vista è un bambino che nasce cieco quello il primo ha avuto un approccio con il colore quindi può farne memoria ma quello che è nato cieco non l'ha mai visto sente parlare dalla mamma di rosso blu e verde mi mi intriga l'idea di sapere che cosa c'è nella psiche di questo bambino anche quando ha 40 anni cioè non ha mai visto il colore ne ha sempre sentito parlare chissà che tipo di senso di non distinguere da un colore l'altro la visione pianta si 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 ma hai citato hai citato hai citato ah certo la vita grigia ma poi si ma 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 tutti ci sono c'è la cromoterapia per esempio che sulla base dei colori si curano certe malattie fondamentalmente psichiche c'è il test di Luscher che era pubblicato dall'Astrolabio è difficile trovarlo che è un test usato dagli psicologi che ti fanno sedere sul lettino ti danno dieci carte colorate ti dicono mettile così senza pensarci in ordine di tuo gradimento poi le si riunisce le si mescolano gliele si dà una seconda volta e si dice adesso rimettile di nuovo in ordine senza sforzarti di rispettare l'ordine primario e così vengono fuori delle coppie le carte sono numerate ed è pieno di risposte io ce l'ho e lo facevo agli studenti qualcuno si presentava volontario e davo delle risposte e lui diceva sì sì è proprio vero io ho questo difetto oppure questo pregio quindi quindi ha degli usi poi per dirla al medico lei ha parlato il carrozziero come io ho citato beni culturali e enologia poi è venuta fuori la carrozzeria ma pensate nel forense nel forense un quadro rubato se si potesse avere il dna del colore per ritrovarlo o come nella nella cura delle malattie della pelle per esempio il cancro della pelle evidentemente dove è localizzato il cancro il colore è diverso da dove non c'è e quindi con la colorimetria si possono fare anche dei saggi precoci ha delle applicazioni veramente in tantissimi il mondo senza colore sarebbe una gran noia va bene ci sono devo aggiungere qualcosa che ho usato l'entura perché da un momento di psicologia che ha il colore il mondo caldo che ci sa lo scopo non è ma però è banale dirlo ma sappiamo tutti che il rosso è segno di pericolo lo sappiamo perché ce l'abbiamo nel DNA probabilmente perché probabilmente nella storia della vita il colore il serpente sappiamo tutti che ti dicono guarda che tutto ciò che è giallo nero potrebbe essere pericoloso velenoso se è un calabrone piuttosto che un serpente eccetera il pianeta è azzurro ce l'hanno raccontato perché l'hanno visto dal di fuori però la natura è verde e uno allora si domanda ma la camera da letto la devo dipingere di azzurro per rilassarmi meglio o la devo dipingere di verde cioè è meraviglioso il discorso poi sulla funzione del colore all'interno della psiche umana il più delle volte è un codice io credo è uno standard ci siamo messi d'accordo e abbiamo stabilito che quando il semaforo verde noi passiamo c'era una vecchia battuta non so dire se è vero o no che in Cina i semafori erano il contrario perché il rosso è il colore del progresso e quindi si va avanti e invece il verde ci si ferma ovviamente non è vero però questo fa sì che è comprensibile come sia uno standard sia una forma di accordo quella di stabilire il significato di alcuni colori al di là di questo la percezione è anche molto soggettiva come possiamo noi dire che vediamo tutti il rosso allo stesso modo che sia di Tiziano di Raffaello piuttosto che un'automobile i fiori i fiori sono avvenuti milioni di anni dopo delle piante e i fiori sono è l'unico elemento della natura colorata non serve servirà anche a noi ma probabilmente serve di più agli insetti anzi serve di più alle piante per essere impollinate dagli insetti voglio dire c'è tutta una funzione sicuramente molto importante su queste frequenze di luce che noi chiamiamo colori che noi percepiamo in modo diverso però al di là di questo la parte interessante di quanto lei ci ha detto era proprio solo sulla parte chimica sugli elementi io non riesco ancora a comprendere come un fotone che entri all'interno di una sostanza quindi va da contatto con degli atomi restituisca una cosa diversa in funzione se quella cosa è gialla rossa o verde cioè che cosa assorbe quello che assorbe è energia e dove va questa energia perché mi riflette il blu assorbendo il verde quindi si tiene una cosa e me ne lascia un'altra allora mi arriva mezzo fotone un quarto di fotone non riesco a farmi un'idea riguardo a questo questo è semplicissimo sono i livelli energetici degli elettroni negli atomi e nelle molecole il fotone porta la molecola a uno stato foto eccitato il primo stato di singoletto S1 o anche a stati eccitati di energia superiore da cui si ha un rilassamento vibrazionale di parte di questa energia data dal fotone e poi si ha il ritorno allo stato fondamentale come emissione radiativa cioè colorata e questo fenomeno è la fluorescenza per esempio dove un colorante una molecola assorbe una certa lunghezza d'onda e poi emette a una lunghezza d'onda superiore cioè a energia più bassa perché parte la smaltita in questo rilassamento vibrazionale della molecola è un termine così per fosforescenza è analoga alla fluorescenza che ho detto però parte dal primo stato di singoletto e c'è l'inter system crossing cioè si passa da stato di singoletto a stato di tripleto insomma sono cose che gli spettroscopisti mangiano tutti i giorni quindi la risposta c'è ai suoi dubbi bene penso che adesso possiamo chiudere qui ringrazio tutti è stato molto bello saranno contenti fisici di che il colore è una manifestazione quantistica grazie a tutti Grazie.